seconda giornata sunday cup magici contro pro militanza risultato ancora solo 0 a 0 siamo nelle primissime battute della partita come da pronostico sono i magici a giocare per la maggior parte del pallone a terra e a ripartire in contropiede grazie no 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 dico sempre il stesso ormai c'è un discorso standard bravi bravissimi in avanti ancora la ricerca di riccio che non riesce a toccare il pallone fa buona guardia tufano come si chiama il nove mi gallo cerca lo stosso non gli riesce alla perfezione poi si gira su se stesso l'attaccante fa buona guardia marrone mette in fallo laterale poi guida lo stop ancora di sinistro poi allarga ancora il numero 9 e palla che finisce alle stalle mi callo ancora per riccio sbaglio il passaggio guadagna però un fallo laterale poi per pop off fa buona guardia tufano ancora una volta mette in fallo laterale sulla pressione di riccio qui in primo piano poi ancora mi callo prova un tiro a giro deviato fortunatamente per lui finisce in calcio d'angolo pop off troppo lunga per tutti la palla mamma mia che brutta palla di pop off che si dispera così poi tecane ancora buono lo scambia adesso larga bene costruisce il gioco quindi la promilitanza con questo tiro che finisce sul fondo marrone serve centralmente mi callo cerca un passaggio di prima per l'inserimento di pop off ancora mi callo pop off una serie di impalle infine favoriscono tecane per la ripartenza della promilitanza ancora il passaggio al centro e guida non riesce nel tap in vincente poi ricostruisce il gioco mi callo usufruendo dell'aiuto di marrone il pallone finisce sul fondo con la buona guardia di braco vediamo qui il nostro collegamento